Mr. Pizzulli sembrava campionato oggi? Era quello che si chiedeva alla fine perché il Taranto comincerà domenica prossima, noi abbiamo la Coppa domenica prossima, quindi era l'ultimo test vero, quindi i ragazzi, devo dire che il Taranto ha dimostrato di essere una grande squadra e il risultato è vero, è andato a nostro vantaggio, però è stata una partita molto importante per entrambe le squadre. Noi abbiamo fatto una partita molto attenta tatticamente, quando giochi con squadra di categoria superiore non devi concedere quasi nulla e il Taranto ha avuto anche l'occasione di passare in vantaggio un paio di volte, bisogna essere onesti e coerenti e non è riuscito grazie al Palo, grazie a Figliola, noi abbiamo avuto pure noi un paio di occasioni, è stata una partita anche equilibrata. È stata una partita tosta dove complessivamente abbiamo fatto anche una buona gara, sono molto arrabbiato per l'inconsistenza in cattiveria perché abbiamo fatto 7-8 palle gol e poi su uno svarione abbiamo preso gol, ma non è questo che può cambiare. Siamo stati forse troppo superficiali, bene anche nella fase di palleggio, pochissima cattiveria, ci siamo risparmiati troppo, abbiamo sbagliato l'impossibile e quindi magari ecco questo mi rattrista un pochettino, nel complesso bene, ottimo allenamento.